Sono molto contento e orgoglioso di questa squadra perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante in un campionato molto difficile e quindi sono soddisfatto perché dopo le ultime stagioni molto tribolate quest'anno siamo sempre stati in una situazione abbastanza tranquilla ma comunque la classifica era sempre corta quindi ci bisognava sempre stare molto concentrati e adesso abbiamo l'ultima partita da affrontare con grande entusiasmo perché abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo e andiamo a affrontare l'ultima partita per provare a raggiungere un qualcosa in più. Sicuramente all'interno del gruppo quest'anno ci sono stati degli uomini importanti prima che dei calciatori e quindi si è creato un ambiente all'interno dello spagliatoio importante di gente veramente con gli attributi quindi quello fa la differenza. Poi questa salvezza penso che sia grande merito del mister perché il mister ci ha dato tantissimo è arrivato in una situazione particolare e piano piano si è fatto conoscere che ha cercato di metterci in campo sempre nel migliore dei modi e ci ha dato una grossa mano penso che la maggior parte del merito di quest'anno va dal mister. Anche i giocatori che erano fuori sono sempre stati presenti quindi quello è importante perché anche se non sei presente in campo sei presente comunque nel quotidiano quindi anche i giocatori come Speranza e Gomis ci hanno aiutato al di fuori del campo quindi quello è importante. Io non so se rimarrò oppure no, sono sincero ancora non ho parlato e sono molto concentrato ancora sul finale di campionato però sono anche consapevole del fatto che se questa squadra non viene smantellata e il mister viene confermato c'è la possibilità di ripartire con grande entusiasmo e con un gruppo già collaudato. Poi dopo i campionati non è che uno può prevedere il futuro però ecco una base importante secondo me questa squadra ce l'ha è normale che uno è ambizioso e cerca di... io penso che dopo gli ultimi anni brutti o comunque di salvezze miracolose quest'anno ci siamo salvati con molta più serenità e quindi penso che giustamente questa squadra sta facendo degli step volta per volta e credo che e mi auguro che lo step successivo a una salvezza tranquilla sia qualcosa di più.